Il mondo digital di Jenny Seconda parte della nostra trasmissione il mondo digital di Jenny abbiamo promesso ai nostri ascoltatori di avere un ospite che ci parlerà di eh questo evento molto atteso dal titolo Isteria Social vero Jenny? Assolutamente e l'ospite in studio è Isabella Rosa Pivò scrittrice e anche blogger benvenuta. Ciao a tutti. Isabella Rosa Pivò nel suo lavoro eh sia di scrittrice che di blogger ha incontrato eh diversi personaggi pubblici negli ultimi tempi da dove è scaturita l'idea di creare un evento del genere? In questi due mesi ho intervistato molte persone che ritenevo culturalmente rilevanti o pubblicamente interessanti eh però mi occupo molto di dell'argomento femminismo quindi del femminile e tutto ciò che circonda questo ambito. Così ho pensato che sarebbe stato interessante intervistare delle figure istituzionali quindi le donne in politica per chiedere loro un'opinione riguardo argomenti che potessero essere importanti per le donne. Mi sono rivolta a Jenny Perron e a Brivio a Romain per organizzare un qualcosa da per poter creare insomma dei video utili eh al pubblico e mi hanno proposto soprattutto a Jenny ehm un un evento proprio per promuovere questi video ma anche per eh parlarne insieme al pubblico in maniera diretta. Ecco e da qui è nato l'evento Isteria Social. Jenny tu hai subito colto l'occasione per inserirlo nella serie di eventi di cui abbiamo spesso parlato di eh di talenti digitali. Sì ecco ehm quando si è presentata Isabella innanzitutto come talenti ci è piaciuto tantissimo il suo entusiasmo e la sua professionalità e non potevamo non inserire questo evento eh nel contenitore eventi digital perché perché comunque eh stiamo parlando di hate speech hate speech è mh un tema molto caldo in eh in quest'ultimo periodo. Scopriremo perché e anche cosa vuol dire questo termine inglese termine che spesso troviamo effettivamente se stiamo nel mondo digitale fra pochi minuti. Hate speech è un termine inglese che spesso si sente nominare ma forse non è così ancora troppo conosciuto Jenny di che cosa si tratta? Ma guarda quando parliamo di hate speech parliamo di un tipo di comunicazione eh che si serve di parole, espressioni o elementi verbali ehm con il fine ultimo di esprimere e diffondere odio ed intolleranza e è voluto. Ci sono delle tecniche di comunicazione che portano la discussione che avviene non solo nei social. Eh cioè quando parliamo di speech non parliamo solo di social è una tecnica eh utilizzata anche nel mondo. Anche verbalmente. Esatto e ne sappiamo bene qualcosa. Ehm ovviamente sui social quando voi vedete diecimila post eh le diecimila commenti sotto un post ehm se io utilizzo diciamo alcune tecniche riesco a generare ulteriore odio tendenzialmente viene fatto da dei profili fake o comunque dei gruppi ehm di utenti che si mettono già d'accordo prima per riuscire ad arrivare appunto a una discussione eh molto a volte anche molto pesante. Ehm l'idea di Isabella funziona molto bene in questo momento perché se voi eh seguite un po' il mondo anche della politica locale purtroppo su molti profili di donne politiche valdostane si sono verificati questi eventi tanto che anche eh gli organi stampa ne hanno riportato testimonianza. Ehm a questo punto eh bisogna parlarne e l'idea che adesso diciamo ce l'esporrà un po' meglio Isabella perché è più la parte sul femminismo eh ci racconterà un po' un attimino ehm che tipo magari di domande farà qual è l'obiettivo comunque no? L'obiettivo intanto prima di tutto è riportare le testimonianze di queste donne quindi capire effettivamente eh cosa hanno provato e eh quali sono le esperienze che magari le hanno colpite e quindi capire bene cosa anche questo speech cosa può portare e anche il dispiacere relativo quindi gli effetti tutti negativi che porta. Eh le altre domande ovviamente saranno cercare di capire come risolverlo, come combatterlo, avere delle idee sia loro sia delle idee che porteremo noi dei consigli effettivi e pratici per reagire a questo tipo di violenza perché di violenza si tratta, è un incitamento all'odio, quindi di violenza verbale e anche digitale. Ecco secondo me poi magari parliamo anche di come i video dopo i video che farà Isabella in realtà diventeranno anche una campagna secondo me. C'è il 12 ottobre alle 18 ci sarà questo evento Isteria Social con la presentazione di libri ma anche l'opportunità di realizzare dei video. Eh di che cosa si tratta Isabella soprattutto per quanto riguarda la produzione di questo materiale video? Sì eh a seguito dell'evento farò dei video con ciascuna politica eh video brevi coincisi per riassumere questo concetto che si è stato affrontato, che è stato affrontato durante l'evento Isteria Social e quindi eh sia racchiudere la loro testimonianza, la loro esperienza e racchiuderò anche eh i loro consigli pratici o le loro idee per poter combattere il problema. Quindi uscirà un video ogni settimana a seguito dell'evento con una politica ciascuno dedicato proprio a lei e secondo me potrebbe proprio essere interessante per eh conoscere a fondo le loro opinioni. E per questo Jenny dicevi una sorta di campagna contro la violenza eh sulle donne, la violenza di genere, violenza che anche eh verbale e con gli stereotipi di genere proprio anche nel avvicinarsi al venticinque novembre. E brava Paola, caspita, come al solito la giornalista che in te viene fuori. Ecco. Ehm sì assolutamente ci tengo a specificare che eh questo evento o mh in questo evento abbiamo chiamato le donne che in questo evento eh che comunque fanno parte del mondo della politica. Questo perché? Perché è normale che eh sicuramente hanno una visibilità maggiore per cui quando capita un fenomeno eh nei loro profili come appunto un fenomeno di violenza vogliamo chiamarlo così? Certo. È un po' duro però è vero. Ehm viene sicuramente notato di più. Ehm è un evento però che vuole eh aiutare tutte le donne perché eh purtroppo ehm come risulta da eh il barometro dell'odio sono tra le vittime ehm più colpite ecco da questo fenomeno. Eh come faremo per aiutarle? Eh a fine mh evento presenteremo due titoli di libro di libri eh uno più concentrato più incentrato sul tema del femminismo l'utilizzo eh delle parole contro le donne eh quindi diciamo più sociologico eh e l'altro invece eh è più tecnico quindi proprio degli strumenti pratici su come il gesto come gestire eh questi commenti così pesanti e violenti che arrivano in pagina. Ne abbiamo anche parlato a volte Paola no? Esistono anche proprio delle tecniche per eh delle accortezze per evitare che questo accada. Eh molte persone non lo sanno molte donne non lo sanno. Eh i video di Isabella secondo me diventeranno una campagna sì perché? Perché eh daranno la possibilità a molte donne di riconoscersi in quello che dicono eh le donne politiche che verranno a trovarci e parteciperanno all'evento. Dettaglieremo nei particolari come si svolgerà la giornata restate con noi. Segnatevi in agenda questo appuntamento sabato dodici ottobre alle diciotto alla libreria Birrivio in piazza Shanu. Come si eh articolerà eh l'iniziativa Jenny? Allora ehm l'evento come hai detto tu è alle diciotto come sempre eh lo facciamo da Brivio perché è il nostro partner ufficiale quindi lavoriamo benissimo con Brivio e andiamo avanti in squadra che vince non si cambia. Ehm ci sarà una prima parte in realtà non molto lunga con l'esposizione dei dati del barometro dell'odio eh sia di Vox sia di Amnesty eh a cura nostra di talenti poi ehm Isabella appunto coordinerà possiamo dire una tavola rotonda perché a questo punto diventa una tavola rotonda sono più o meno quattordici le politiche a cui abbiamo chiesto di partecipare quindi sono tantine eh gli verranno fatte delle domande appunto dove loro riporteranno la loro esperienza e poi in chiusura ci sarà la presentazione dei due titoli da parte di Romano e di della libreria Brivio. Isabella quanti buoni motivi per partecipare a a questa iniziativa uno su tutti? Come hai detto ce ne sarebbero mille ma uno su tutti venite perché uno degli stereotipi più diffusi è che noi donne non facciamo squadra. Ci saranno donne che rappresentano idee e fronti totalmente diversi che si riuniscono per parlare di un tema comune, di un problema comune. Non potete mancare anche voi, facciamo squadra. Sicuramente un bel salotto femminile a cui ovviamente sono invitati anche gli uomini. Soprattutto gli uomini sarebbe proprio importante vedere tanti maschietti. Grazie a Isabella Rosa Pivò scrittrice che è stata con noi e che eh modererà questo incontro grazie e arrivederci a risentirci a presto. Grazie mille a te e grazie a tutti voi. Grazie Jenny si conclude il nostro appuntamento digitale in radio e ci risentiremo invece fra quindici giorni. Ciao a tutti e se volete sul sito Talenti Digitali c'è l'evento con tutti i dettagli. Il mondo digital di Jenny Grazie mille a tutti i dettagli. Grazie a tutti i dettagli. Grazie a tutti i dettagli. Grazie a tutti i